Leonardo questo tempo lì non si vuole fermare insomma che stasera un'altra bella vittoria un'altra grandissima prestazione contro una squadra comunque in salute sì sì è stata un'altra bellissima serata e no non ci vogliamo fermare anche perché non vedo non vedo il motivo per farlo ecco stiamo facendo bene e quindi dobbiamo dobbiamo continuare così il momento è positivo e lo diciamo tante volte ma i fatti lo dimostrano chiunque giochi il risultato non cambia questa è la cosa più bella sì sì è così dal così dall'inizio e quindi questo fa capire l'importanza di questa squadra e è un aspetto che che deve che deve continuare ecco l'Empoli gioca senza timore questa è un'altra cosa bella su qualsiasi campo l'Empoli va a giocarsi anche stasera contro il Verona che lo dicevamo prima sta bene voleva passare quanto vuoi però a un quarto d'ora alla fine l'Empoli era sopra di tre reti anche veritatamente sì abbiamo abbiamo giocato un'altra grande partita dall'inizio alla fine soffrendo quando c'era da soffrire e cercando di fare le nostre giocate quando quando era il momento e infatti abbiamo abbiamo comunque segnato quattro gol anche stasera quindi è un indice che 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 attacchiamo molto e vogliamo costruire tanto quindi è un aspetto un aspetto positivo anche anche questo e che va che va sicuramente alimentato Natale è vicino ma per staccare leggermente la spina ci sono ancora due gare la prima sarà subito uno scontro importante domenica spezia e poi germina sì oggi era importante far bene passare il turno perché comunque fa piacere andare avanti andare avanti in Coppa Italia che è una competizione che vogliamo onorare adesso domenica ci ributtiamo subito subito nel campionato con una bella partita